E' arrivata ieri una nuova circolare che modifica quelli che sono i tempi anche di quarantena a seconda del tipo di variante. Diminuisce così il periodo della quarantena per tutte le varianti compresa la delta, mentre aumenta per la beta, nota anche come sudafricana, di cui al momento non è stato segnalato nessun caso in Veneto, ma sempre più presente a livello internazionale. Su questa variante non abbiamo ancora molti dati relativi a quella che può essere la caratteristica di diffusione, la capacità di contagio, quindi c'è un atteggiamento più prudente. Per tutte le varianti quindi esclusa la beta, l'isolamento per i contatti stretti resta di 10 giorni, di 7 se si è vaccinati. I giorni resteranno 14 in mancanza di un test antigenico o molecolare con esito negativo. Per i contatti a basso rischio, con o senza ciclo vaccinale completato, non è più prevista la quarantena. Chi si trova in questa situazione deve semplicemente automonitorarsi. E' a basso rischio, va ricordato, il soggetto che entra in contatto con il positivo per meno di 15 minuti, stretti tutti gli altri. Nel caso di variante beta, ancora un'ipotesi in Veneto, sia i contatti stretti che a basso rischio vanno in quarantena per 10 giorni. Queste le nuove regole immediatamente operative in un quadro epidemiologico che resta confortante. Abbiamo un R.T. di 1,16, un'incidenza di 83,6 e poi un tasso di ospedalizzazione che è del 2% per l'area non critica e del 3% per quanto riguarda la terapia intensiva. Chiaramente questi dati ci collocano ancora in zona bianca. La malattia, stando al monitoraggio settimanale, sembra sotto controllo. Anzi, si registra un primo leggerissimo calo negli ultimi giorni, come dimostrano anche i grafici. La fotografia di contagio e ricoveri, aggiornata al ferragosto, è questa. Per quanto riguarda l'età media del contagio, è ancora bassa, come lo era anche l'anno scorso, e si attesta intorno ai 30 anni. Invece, per quanto riguarda quella dei ricoveri, soprattutto dei ricoveri in terapia intensiva, è intorno ai 55 anni. Invece, per quanto riguarda quella dei ricoveri, soprattutto dei ricoveri in terapia intensiva, è intorno ai 50 anni.